Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni. Oggi incontriamo in studio il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, Daniele Tormen, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori, grazie. Allora, iniziamo subito a capire la vostra realtà, come si sostanzia. Quanti siete e di cosa vi occupate? Allora, l'Ordine degli Avvocati di Belluno, in attualità, è un dato proprio recentissimo, è composto da circa 300 avvocati. In leggero calo rispetto a un paio d'anni fa. Diciamo che la curva numerica negli ultimi anni si è assestata e non c'è stato più l'aumento esponenziale che avevamo vissuto nei precedenti decenni. L'Ordine si occupa fondamentalmente di tre attività. Una è quella di tenuta degli albi, quindi di garantire la regolarità formale delle iscrizioni e i requisiti sostanziali per la permanenza nell'albo. La seconda è un'attività di formazione, da molti anni ormai gli avvocati sono sottoposti a un rigido regime di formazione e di aggiornamento professionale. E la terza è quella di, chiamiamola, istituzionale, quindi mantenere i rapporti con tutti gli organismi e gli operatori del diritto e anche con la cittadinanza. Veniamo allora a delle attività recenti. L'anno scorso è stato un anno importante per il Vajont. Voi avete fatto un particolare dono al Presidente Mattarella. Sì, in questo dobbiamo ringraziare un nostro ex iscritto che era l'Avvocato Ries, il quale per anche ragioni familiari aveva in proprio possesso una delle copie della requisitoria che era stata tenuta dall'allora Dottor Mandarino, Procuratore della Repubblica, e atteneva proprio appunto alla requisitoria nel processo del Vajont. Abbiamo attraverso la Prefettura di Belluno fatto dono di una delle copie di cui parlavo poc'anzi al Presidente della Repubblica, collegandolo anche alle recenti criticità legate al trasferimento degli atti. Come penso gran parte della popolazione bellunese sa, il processo all'epoca si è tenuto all'Aquila per quello che si chiamava il legittimo sospetto, la legittima sospicione. E è emersa recentemente l'idea, a mio avviso, assolutamente da respingere, per ragioni morali prima che giuridiche, di trasferire tutti gli atti del processo da Belluno all'Aquila. Credo sarebbe un vulnus per la storia di questo territorio e sarebbe veramente l'applicazione di un formalismo assolutamente fuori dal tempo. Un caso in cui la legge insomma sarebbe ingiusta, se non altro per la nostra coscienza bellunese. Voi vi battete quindi anche per questo. In realtà anche lì l'interpretazione si presta anche a un'applicazione molto più sostanziale e quindi il collegamento con la donazione della requisitoria è anche quello di tenere alta l'attenzione perché come anche recenti fatti di cronaca testimoniano, quel tipo di tematica è sempre importante da seguire e il vaionte è un po' l'antessignano di tutte queste vicende. Quindi sì, quella è stata un'operazione interessante, utile e aggiungo anche un'ulteriore cosa, con l'Unione Triveneta degli Avvocati nel mese di ottobre si è tenuto anche un evento a Pordenone organizzato da Pordenone ma che ha visto anche la partecipazione di Belluno proprio su una tematica specifica dei reati contro il Columità e si è trattato proprio anche della genesi e dello sviluppo del processo vaionte. Tra le altre attività che sono state fatte nel 2023 anche la rinascita, possiamo dire, del gruppo Giovani Avvocati. Ci fa un po' la storia e insomma di cosa si tratta? Certo, parliamo dell'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, che appunto è l'associazione che raggruppa un po' tutti gli avvocati considerati giovani. Il tetto d'età per definirsi giovani in quel caso è 45 anni e Belluno ha avuto per molto tempo una sezione Aiga, tra l'altro personalmente io ero uno dei soci fondatori, parliamo di più di 20 anni fa, ahimè, e per una serie di ragioni poi negli ultimi anni non c'era più stata la ricostituzione e in occasione anche del congresso che si è tenuto a Venezia dell'Aiga nazionale c'è stata appunto la ricostituzione di una sezione bellunese di cui ringrazio i giovani colleghi per l'impegno che hanno profuso e quindi è ripartita la sezione. È un passaggio importante perché avere anche un riferimento associazionistico che tiene conto dei problemi dei giovani avvocati, delle criticità e degli sviluppi della professione per la fascia diciamo appunto nuova, intesa come giovane, degli avvocati è molto utile. Quindi sì, confermo, è ripartita, è stata rifondata una sezione bellunese dell'Aiga. E quanti sono? Allora, la fascia dei giovani avvocati, ripeto, tenendo conto che giovane vuol dire fino a 45 anni, ha comunque un numero discreto di nuove iscrizioni, parliamo di qualche decina di iscritti, che è una buona ripartenza. Questo va un po' diciamo in contrasto con una cosa che dicevamo prima, che adesso possiamo approfondire, ossia che la professione non attira più come un tempo. Ci parla un po' di questa flessione, quali potrebbero essere i motivi dietro a questo? Sì, lo dicevamo appunto poc'anzi. Negli ultimi anni si è consolidata una tendenza alla riduzione del numero degli avvocati. La PIL della professione forense non è più quella di una volta. Le ragioni richiederebbero forse ore e ore di trasmissione. Riassumendole, in estrema sintesi, le possiamo definire in tre ordini di grandezza. Una è in generale la caduta di prestigio delle professioni cosiddette intellettuali o liberali. Vale anche per altre professioni come architetto, ingegnere, eccetera. La seconda è un'oggettiva e preoccupante tendenza all'abbassamento dei redditi. Le statistiche che generalmente ogni anno ci fornisce la cassa forense, che sono quelle ufficiali, fanno vedere un progressivo abbassamento dei redditi che ha avuto una leggera ripresa nel 2021 post-Covid, ma che è ancora prematuro da valutare se in risalita oggettiva. E questo ovviamente comporta anche un numero crescente di persone che sono sfiduciate nel partire e nel intraprendere la professione. Un terzo ordine di ragione è anche quello della lunghezza. Quindi, come è noto, una volta che si diventa avvocati, non si vince un concorso e si comincia ad avere una sicurezza economica, ma si parte, inizia un percorso, si dice il bello comincia adesso, quando si passa l'esame da avvocato, e si comincia un percorso che non necessariamente porta a risultati economici tangibili in tempi rapidi. Al giorno d'oggi, dove tutto è velocità, il passo lungo del Montanaro, in questo caso dell'avvocato Montanaro, è in modo più difficile, e quindi è un altro elemento che tende a scoraggiare. Mi viene anche da dire che qualche volta una forte sfiducia, anche dettata da una certa opinione pubblica e da un messaggio che viene trasfuso, il paese in declino, eccetera, eccetera, non aiuta certamente le professioni intellettuali. Speriamo di invertire questa tendenza, perché tutte le professioni intellettuali sono il sale dell'attività economica. D'altro canto, l'avvocato, ultimamente la figura dell'avvocato così come quella anche del giornalista e di altre figure intellettuali di questo tipo, sono un po' viste in maniera negativa proprio anche ai fatti di cronaca che si sentono parlare. Volevo chiedere qual è, secondo lei, la motivazione iniziale che dovrebbe spingere un giovane e che magari ha spinto anche lei a intraprendere questa strada, al di là, insomma, cercando di ignorare tutte queste male lingue intorno alla professione. Anche qui potremmo parlarne per ore e ore. Ci sono tantissime motivazioni che sono quelle ideali. Io personalmente sono un grande appassionato di storia e l'analisi millenaria della storia dell'avvocatura va sempre a coincidere con le grandi evoluzioni sociali e economiche. Tutti i passaggi più importanti nella tutela dei diritti sono nati anche da attività che hanno svolto gli avvocati. O da sentenze. Certo, certo. O da attività storiche. Da attività che poi sono sfociate in sentenze, ma anche l'aspetto della tutela dei diritti. Ecco, tra l'altro domani, se non ricordo male, è la giornata che tutela i diritti e al recente congresso nazionale di Roma tenutosi a dicembre è stata ricordata, è stato proiettato anche un video dell'avvocatessa iraniana che attualmente è ai domiciliari per l'attività che sta svolgendo a tutela delle donne. Ecco, questo è un concreto aggancio alla attualità delle vicende professionali in senso stretto, ma anche collegate alla grande storia e alla tutela dei diritti. Quindi, ripeto, potremmo andare a pensare e a parlarne a lungo gli aspetti storici, ma diciamo l'idea di migliorare la società va spesso legata all'attività professionale degli avvocati, sia appunto nelle grandi battaglie, ma anche nelle cose concrete, nella tutela dei piccoli diritti, nella vita quotidiana di ognuno di noi. A oggi è ancora più importante perché la complessità della vita giuridica richiede comunque figure professionali importanti. Poi c'è anche, come dire, un aspetto più concreto, cioè è quello non solo appunto di grandi ideali, ma quello di dare una mano nella società in cui si vive. E qui mi collego al territorio, è un problema atavico della provincia di Belluno, meno strutture, meno servizi, anche un servizio come quello giuridico, che è connesso alla vita economica e alla vita sociale, determina l'impoverimento del territorio. E l'impoverimento del territorio determina poi una perdita della popolazione, nel senso che la gente se ne va, ha meno servizi e quindi se ne va. Quindi anche quello è, secondo me, una spinta per intraprendere in generale le professioni intellettuali o liberali, e in particolare quella dell'avvocato, quindi dare una mano per il proprio territorio. Tra le cose che anche a voi tocca fare, come tutte le professioni di questo tipo, c'è un costante aggiornamento. Su questo è andato l'incontro che avete fatto per i 40 anni della Camera Penale, e quindi affrontare un tema che è la riforma a Cartabia, festeggiando al contempo questo traguardo. Sì, esattamente. La Camera Penale Bellunese nel 2023 ha festeggiato i 40 anni, ha organizzato un convegno e l'Ordine degli Avvocati l'ha coorganizzato. Da un lato appunto celebrativo, perché la Camera Penale Bellunese è la seconda per anzianità di fondazione nel Veneto, e dall'altro ha unito anche un'attività di aggiornamento, agganciandola all'applicazione nel primo anno della riforma a Cartabia sotto l'aspetto penale, penalistico, quindi le riforme in quanto riguarda il processo penale, invitando appunto un professore universitario, un magistrato di Cassazione e la vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali. È stato utile anche per fare un po' il tagliando semestrale della riforma, in realtà senza poter dare valutazioni oggettive, perché è un work in progress. È stato utilissimo anche il confronto appunto tra le diverse anime del mondo del diritto, quindi l'università, l'accademia, la magistratura, l'avvocatura. Diciamo si è arrivati a una conclusione comune nel dire che dipenderà molto da come viene applicata, da come viene interpretata per determinare se sarà un successo, anche parziale, sarebbe già un buon risultato, oppure se sarà l'ennesima riforma lasciata a metà, di cui purtroppo è venuto tante volte negli ultimi 40 anni occasione di discutere. Quindi in estrema sintesi appunto la conclusione è stata, vediamo come verrà interpretata e applicata, il bivio è importante in questi termini. È stata un'occasione peraltro anche per dare in qualche modo lustro appunto all'attività che è stata fatta dagli avvocati, in questo caso penalisti, nella provincia di Belluno. Vedremo insomma allora tra qualche mese ancora come saremo su questo punto. Noi siamo giunti al termine di questa intervista, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ringrazio ancora il Presidente degli Ordini e degli Avvocati di Belluno, Tormen. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.